Buongiorno, buongiorno è il mio primo viaggio in Spagna, ho dovuto compiere 50 anni per andare in Spagna Sto andando a Madrid, lo invito a ulteriori dettagli, ulteriore foto, video, se è bella, se è brutta Sicuramente sarà bellissima perché Madrid comunque è il suo fascino, a più tardi, a più tardi Grazie a tutti Per uscire da qui non è tanto semplice, anche perché per me come vi dicevo è la prima volta Quindi non è semplice, sto cercando di orientarmi tra domande e poi anche i vari cartelli di indicazione E quindi ne uscirò appena sarò fuori e ci rivediamo Carissimi, sono nella metropolitana e volevo condividere con voi la bellezza della metropolitana Guardate, qui siamo a Chamartín Siamo un po' in periferia di Madrid Guardate che spettacolo Lo so ragazzi, lo so, qualcuno di voi ora sta dicendo Per questa gru Però Madrid è una ristrutturazione continua E stanno facendo davvero dei bellissimi lavori Come vi dicevo qui siamo nel centro di Chamartín A presto Grazie a tutti 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 Ciao amici Siamo al parco e volevo farvi vedere le meraviglie che ci sono Ogni tanto vi faccio vedere anch'io perché sennò qualcuno non ci crede che sono io che registro A presto E qui termina la mia breve vacanza a Madrid L'aereo sta arrivando quindi tra un po' mi imbarco scenderò a Roma e poi aspetterò la coincidenza per la mezzia terme Ciao amici ci vediamo al prossimo viaggio A presto Ciao amici Ciao amici Ciao amici Ciao amici